Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli? Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi, la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Così anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito.